Dove diavolo sei stata? Ogni volta che ti cerco non sei mai al posto tuo, non è la mia immaginazione. Dove vai tutti i santi giorni? Al bagno, signore. Al bagno. Ti prendi in giro? 40 minuti al giorno. E cosa fai? Qui siamo fuori tempo, riversato molta fiducia in te. Non c'è un bagno per me qui. Che vuol dire non c'è un bagno per te qui? Che non c'è il bagno. In questo edificio non c'è il bagno per le persone di colore. E in nessun edificio al di fuori del West Campus che è a circa un chilometro da qui. Lo sapeva? Devo camminare fino a Timurthur solo per poter fare un bisogno. Non posso usare le biciclette di servizio. Che ne dice signora Arisone? La mia uniforme, gonna sotto al ginocchio, scarpe con tachi e un semplice pillo di perle. E meglio non le ho di perle. Dio sa che non pagate i neri abbastanza perché si coprino le perle. E lavoro come un cane, giorno e notte, vivendo di caffè da una caffettiera che nessuno di voi osa toccare. Perciò mi perdoni se mi assento un paio di volte al giorno per andare alla tua legge. E poi, perciò mi perdoni se mi assento un paio di perle.